Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso e coda per traffico tra Firenze Impuloneta e Firenze Sud verso Roma. Ci spostiamo sulla Firenze Maria, un chilometro di coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e Bio 11 a 1, tutto in direzione di Firenze. In Fipili restano rallentamenti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandici verso Firenze in carreggiata opposta a coda in uscita a Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico ferroviario sulla Firenze Siena segnaliamo ritardi e cancellazioni per il danneggiamento al materiale rotabile del treno 11 747 Firenze Siena in seguito all'investimento di un animale di grossa taglia tra Badesse e Siena. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!